Arriveranno dall'America, in particolare da Minneapolis, le cellule staminali alle quali sono affidate le speranze di guarigione di una paziente piacentina affetta da una malattia del sangue. La donazione non consanguinea è possibile grazie all'accreditamento MAD ottenuto quest'anno dal reparto di ematologia trapianti dell'ospedale di Piacenza, con il quale è possibile l'accesso alla rete di donazione mondiale. In tutta Italia i centri accreditati sono 45, 3 in Emilia Romagna. La possibilità di poter avere donatori un familiare è importantissima perché noi dobbiamo capire che un paziente a effettuare lucemia, linfoma, mieloma cioè paratologie ematologiche, oncologiche, possono aver bisogno di cellule staminali non propri, ciò da altri. E per averle devono avere una identità HLA, cioè un codice genetico di riconoscimento identico, altrimenti il trapianto di cellule staminali non si può fare. Il meglio è in famiglia, tra fratelli, però la probabilità è che i due fratelli siano uguali al 25% e molti sono anche mono, c'è un solo fratelli per cui diventa importantissimo poter accedere al registro in modo tale da poter andare a vedere se c'è nel registro, che per intenderci il registro Italia, Europa, Nord America, Australia possa avere un donatore sano che sia geneticamente uguale, cioè sia HLA identico. Proseguono nel contempo anche gli altri tipi di donazioni. Certo, sicuramente il trapianto MAD da donatore accedere identico è il best, cioè il meglio per chi non ha un fratello o sorella accedere identico. Però ci sono pazienti anziani che sono al di fuori dei criteri del trapianto MAD, nel quale stiamo sviluppando una tecnologia molto sofisticata, che è la tecnologia con il cellule staminali da figlio, che si parla di Apple identico. Annualmente sono circa 40 i trapianti tra allogenici e autogeni effettuati nell'unità operativa piacentina che continua instancabilmente nella fondamentale opera di sensibilizzazione dedicata alla cittadinanza sulla cultura della donazione. Il territorio risponde bene, visto che i donatori tipizzati, ovvero pronti alla donazione di midollo osseo in caso di necessità, sono oltre 5.000. Il dato è gratificante, tanto che Piacenza guida la classifica della regione. Noi siamo impegnati qui insieme al centro sul giornale, ripeto con i dottori Rossi, Agostino che è il direttore, Angela e Monogenetica. Si lavora anche sulla popolazione, siamo stati a Castelvetro, a Monticelli, abbiamo in programma altri convegni. Da una parte chiaramente per dire il servizio che facciamo, perché poi il nostro è un servizio per la popolazione, quindi bisogna lavorare sempre in piena sintonia e ringrazio in questo senso le associazioni, APL e Fondazione e ADMO per l'aiuto che ci danno sempre, ma anche proprio per sensibilizzare donazioni, sia in termini di donazione di serostaminali che anche di sangue, perché chiaramente queste bellissime cose si possono fare sia dietro anche l'atto di generosità di donazione della popolazione. La donazione è un semplice gesto che può consentire a un parente o a uno sconosciuto di continuare a vivere.